Io non lo so, non lo capisco, è diverso, è cambiato. Io te l'ho detto, mi sono preso questi 15 giorni per pensare, ok? L'avrei potuto mandare il giorno dopo il messaggio, però per me non sarebbe stata la stessa cosa, non aveva la stessa importanza. Capito, ma non può cambiare in 15 giorni, all'improvviso, così? Diciamo che abbiamo preso due pensieri totalmente diversi, abbiamo avuto in questi 15 giorni. Tu di allontanamento, io invece pensavo ad altro, ok? Che altro volevo fare? Che dovevo fare? No, perché comunque è giusto dire che tra me è di base, non ci sono mai stati problemi, mai. Ce n'era uno grandissimo. Ok, ma posso capirlo in questi 15 giorni se comunque mi puoi mancare? Mi sei mancata. Quindi che ti è mancata? Ti è mancata l'amica? No, non mi è mancata la telefonata di Roberta, però, Roberta. Che ci ridevi insieme, questo ti è mancato? Roberta, non è che mi è mancata la telefonata, ok? Ho pensato anche a questo. Beh, Roberta non è proprio soltanto l'amica, eh? No, Maria, vabbè. Quello per cui si scalda Armando è questo, no? Si scalda dicendo non capisci che ti fai usare. No, no. No, perché... Maria, sono cambiate un po' di cose, anche... Ti sei un po' allontanato. In che senso? Nel senso che comunque ti eri un po' allontanato, no? Non è che stavamo... Perché non ci siamo sentiti in questi 15 giorni? No, quando siamo stati insieme. Dai, vai, Riccardo, no. 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 Grazie a tutti